Buongiorno bella gente, come andiamo? Tutto bene? Finalmente ho messo a posto il nonno Onestissimi questi meccanici qua Mamma mia Porca miseria Mi sa che me lo tengo Il nonno Mi sa che me lo tengo il nonno Purtroppo Non sono arrivate delle offerte come si deve Adesso è più in forma che mai Di conseguenza Vediamo un po' Non è facile tante volte vendere un camper Che ha un po' di anni Magari è La gente che lo compra O che pensa di comprarlo Pensa che dovrà andare dal meccanico E Spenderci un botto di soldi Ma non è così In un anno di onorato servizio Questo motore Se parlo del motore Non si è mai fermato Ho avuto un problema con l'alternatore Ma perché la cinghiera molle Quindi non stiamo parlando di problemi Per quello che riguarda il propulsore Mai Mai Quindi da usato E da 29enne Che è Quasi trentenne Quando l'ho preso io Era 29enne Non ha mai dato nessun tipo di problema Al propulsore Di conseguenza Possiamo Possiamo pensare che Questa macchina è affidabile Nonostante abbia tutti i suoi 10.000 problemi di spazio E tutto Mi rimane comunque in testa L'idea di poterlo vendere Per al Nonostante abbia tutti i suoi Di solito il video ve lo iniziavo Così stavolta ve lo finisco Ciao e buona giornata